Ciao ragazze, non sono impazzita, è che prima di farvi vedere la mia faccia voglio dirvi una cosa Ho cambiato colore dei capelli, non l'ho mai fatto in 27 anni di esistenza e ora ho avuto lo schizzo Mi sono fatta castana, oddio Eccomi qua, allora ragazze, è un po' scioccante in tutti i sensi Aspettate che la telecamera è un po' storta Aspettate, ok, è un po' scioccante in tutti i sensi perché mi devo ancora un attimino abituare Perché questo? Come voi sapete mercoledì ho fatto degli esami abbastanza brutti E sono stata abbastanza scioccata da quello che è accaduto Quindi mi sono svegliata in questi giorni che dato che devo andare a fare i colpi di sole Ho avuto uno schizzo, ovvero quello di farmi castana Quindi sono andata alla parrocchiera, gli ho chiesto consiglio, mi hanno un attimino indirizzato su questo colore Mi ha detto ti lascio per il momento così perché almeno in una settimana vedi se ti piace o no Se non ti piace ti rifaccio bionda, se invece ti piace ti metto dentro anche qualche misciatura Perché adesso sono proprio castani Ora, non so cosa ne pensate voi Sinceramente, vabbè, a me a grandiline piacciono Devo ancora un po' abituarmi, non so se resterò perché adesso devo ovviamente provare Poi qua sono molto castana, devo comunque lavarmi da sole i capelli per vedere quanto scarica Se mi piace il colore scaricato eccetera eccetera Spero che vi piaccia perché tante mi hanno sempre detto che secondo loro stavo bene scura Io in vita mia sono nata bionda e per 27 anni sono stata bionda Quindi mi sono sempre vista bionda Sinceramente se mi dite un consiglio, se vi piaccio, se sto bene, se non sto bene Vorrei qualche suggerimento perché nella fase iniziale a parte lo shock vorrei un attimino capire appunto se sto bene o no Quindi qua sotto al video lasciate tutti i vostri commenti e i vostri pareri Ciao ragazze!